Benvenuti a bordo, viaggiatori! Io sono Grizzly e questo è Diario di Viaggio on the road. Prima di cominciare il vlog, una breve parentesi. Qualche giorno fa ho pubblicato sul canale Telegram un sondaggio chiedendo agli iscritti se fossero interessati in una serie di video sugli operatori di telefonia mobile, di cui ho utilizzato i servizi e quindi di cui ho qualche esperienza. Il sondaggio ha avuto un riscontro particolarmente positivo, e quindi sto realizzando questa serie di video apposta. Per questo motivo vi invito, se non l'avete già fatto, ad iscrivervi anche al mio canale Telegram, lo trovate linkato sul doobly-doo e sulla scheda là in alto. In questo modo non solo riuscirete a ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video, ma riuscirete anche a ricevere in anteprima piccole curiosità dietro le quinte sui video che devo realizzare, o partecipare anche ad altri sondaggi che realizzerò nel corso del tempo a proposito degli argomenti che vorrei trattare. Bene, oggi parleremo dell'operatore Kena Mobile, ma prima di farlo vorrei fare assieme a voi un piccolo esperimento. Questo è il mio telefono Nokia E90 Communicator. Questo telefono ha una sim di Kena Mobile. Adesso facciamo un numero di telefono particolare, non so se si vede, è un numero della Gran Bretagna. Allora, con Kena faccio questo numero. Messaggio gratuito. Siamo spiacenti, il numero da lei chiamato non è attivo. Free message. Sorry, the number you called is not active. Bene, prendiamo adesso un altro cellulare, il mio cellulare personale con un altro operatore, e facciamo lo stesso numero. È il numero del distaccamento in Gran Bretagna del mio ufficio. Metto il video a voce. E guarda caso, però, il numero è attivo, perché lo sta chiamando. Non è possibile dai numeri Kena Mobile, perché ho provato con tutte le sim che ho, effettuare chiamate in Gran Bretagna. Tenete a mente questo discorso, perché ne parlerò nella seconda parte del vlog. Nella prima parte vi parlerò dell'esperienza che ho avuto con l'operatore Kena Mobile, approssimativamente da giugno 2017, quando ho sottoscritto la mia prima sim, fino più o meno al periodo di settembre-ottobre 2018 quando, a seguito di questo problema di nuovo ne parliamo dopo, ho cominciato a effettuare la portatilità delle sim verso altri operatori. Parliamo, peraltro, del periodo in cui Kena Mobile offriva i suoi servizi esclusivamente con copertura di rete in 3G. E lo so che cosa state pensando a proposito dei servizi con la rete in 3G. Eh, ma il 3G è lento, io voglio la velocità, per questo ho fatto la sim di Iliad che mi dà il 4G. Eh già, tuttavia parliamo di 4G basic. E allora? È comunque più veloce del 3G, il 4G è più figo ed è molto più veloce. Mmm, davvero? Allora, tralasciamo che generalmente a parità di condizioni il segnale in 3G tende ad essere un tantinello più stabile, ma il problema più che altro è quello che il 4G basic viene offerto a una velocità massima di 30Mb in download e 3Mb in upload, mentre l'HSPA+, l'H+, lavora a una velocità di poco più di 42Mb in download e poco più di 6Mb in upload. Mmm? 4x8, 48, scrivo 4x8, ponte ponente, ponte pi, tappe tappe... Ehi! Ma allora... Infatti nel video scorso in cui ho parlato di Iliad se non l'avete già visto ve lo lascio linkato sul doobly-doo e sulla scheda, ho anche detto a un certo punto che nel periodo iniziale in cui la rete risultava sovraccarica c'erano momenti in cui ho attivato il tethering su Kena Mobile e la connessione a internet risultava abbondantemente più veloce di quella di Iliad. Ad ogni modo, oggi parliamo di Kena Mobile, per cui cominciamo il vlog. Sigla! Noverka è stato un operatore di telefonia mobile virtuale abbastanza importante sul mercato, non solo per i soci che annoverava tra le sue file, tra cui Acotel o il gruppo bancario in Tesa San Paolo, ma anche per le innovazioni che ha portato sul mercato della telefonia. In un periodo in cui tutti noi avevamo SIM a 32K e la team cominciava timidamente a muovere i primi passi verso la sperimentazione sulle SIM a 64K, Noverka offriva i propri servizi già su SIM a 128K addirittura. Inoltre, grazie alla partecipazione del gruppo bancario in Tesa San Paolo, introdusse una serie di importanti innovazioni nell'ambito dell'home banking. Tuttavia, essendo stato un operatore che era rivolto a un pubblico particolarmente di nicchia, la sua esperienza sul mercato è stata sottoposta ad alti e bassi e, dopo una lunga serie di peripezie, la società Noverka è stata infine rilevata da Tim. Tim a questo punto, approfittando della società Noverka, è tornata sul mercato degli operatori mobili virtuali il 29 marzo 2017 con il marchio di Kena Mobile. Kena Mobile è arrivata sul mercato con delle offerte relativamente aggressive per il periodo e rispetto alla concorrenza. Innanzi tutto, tutti gli operatori avevano variato il proprio ciclo di fatturazione e il proprio ciclo di rinnovo delle opzioni sulle quattro settimane, sui 28 giorni. Le opzioni di Kena non si rinnovavano ogni mese solare, però la principale differenza era che si rinnovavano ogni 30 giorni, e già era una differenza importante. La seconda differenza che possiamo mettere riguarda il fatto che i loro piani di voce, sms e dati erano decisamente concorrenziali e molto interessanti. Per esempio, intorno alla seconda metà di giugno 2017 io sottoscritti la mia prima sim, che è la mobile. L'offerta che sottoscritti si chiamava Kena Comoda, al costo di € 5,99 ogni 30 giorni mi venivano offerti 600 minuti di conversazione, 100 sms e 6 giga di internet in 3G. Ora d'accordo, in quel periodo già c'erano moltissimi operatori che offrivano il 4G e si cominciavano a muovere i primi passi timidamente anche sul 4.5G, però nessun operatore ti offriva più di 5 giga di internet a cifre che fossero inferiori alla quindicina di € al mese solo per il piano internet. Io stesso venivo da un operatore che mi offriva solo 2 giga di internet a 10 € al mese. Traffico telefonico ed sms erano a parte. L'ultima opzione che ho avuto attiva prima di lasciare l'operatore, se non ricordo male, si chiamava New Digital X. Fondamentalmente io avevo a disposizione mille minuti, 50 sms e 15 giga di internet in 3G a 5 € al mese, che era comunque un'opzione più che dignitosa e con una velocità di navigazione in internet decisamente efficiente, sempre in HP. In fondo Kena si appoggiava alla rete mobile di Team, quindi la copertura di rete in ambito nazionale era decisamente efficiente. Purtuttavia ho notato dei problemi di dentizione nel corso del primo mese, del primo mese e mezzo di uso della SIM, perché nel corso del mese di luglio ho notato ogni tanto qualche piccola caduta di linea, ma la situazione è peggiorata gravemente nel corso del mese di agosto, in cui io ero in vacanza e dovevo appoggiarmi completamente al cellulare, perché spesso e volentieri nonostante una piena copertura di rete della Team, semplicemente il segnale improvvisamente scompariva. Anche se la Team era a pieno regime, sul telefonino Kena quello che io vedevo era solo chiamata di emergenza. Pensai anche che fosse difettosa la SIM e mi recai in un punto Kena, lì a Trento, dove ero in vacanza. E lì il ragazzo del punto Kena mi disse «Se vuoi io ti sostituisco la SIM, ma guarda che questo problema in realtà è noto con molti telefoni e la soluzione è molto semplice. Sono andato sul telefono nelle impostazioni degli operatori mobili, e anziché lasciare la ricerca della rete automatica, ho impostato la rete manualmente su Team, e questo mi ha completamente risolto ogni problema relativo alle improvvise cadute di linea o alle improvvise scomparse del segnale di telefonia mobile». Ora, operando sulla rete di Team come operatore virtuale, Kena operava il regime di roaming. Questo ha i suoi pregi e i suoi difetti. Molti telefoni Android hanno la possibilità, quando sei in roaming, di ridurre un pochino il consumo dei dati, e quindi questa piccola parsimonia che mi regalava un 10-15% di traffico dati in più a conti fatti poteva essere comoda, soprattutto perché ero abituato ad avere l'altro operatore che in caso di sforamento del traffico dati mi avrebbe veramente pestato, perché avevo anche la bolletta, ed ero abituato ad utilizzare la connessione internet con molta parsimonia, quindi ogni piccola opzione che mi era molto comoda. Dal lato opposto, però, c'erano anche dei difetti sul fatto di essere in roaming. Il più semplice è che alcune app non digeriscono molto bene di operare in roaming. Per esempio WhatsApp, al livello di funzionalità dell'applicazione non c'era nessunissimo problema, però quando sei con Kena Mobile, se provi a effettuare il backup su WhatsApp, WhatsApp ti dirà «No, guarda, sei in roaming» e quindi per effettuare il backup o ti colleghi a una rete wifi o entri sulla tua rete nativa, finché sei in roaming, non puoi fare il backup. Eh sì, ma io non sono in roaming, questa è la mia rete nativa. Il mio consumo medio di dati nel primo periodo di uso di Kena Mobile si era stabilizzato tra il giga e il giga e mezzo al mese, anche perché era il consumo medio mensile che avevo quando avevo il precedente operatore. Poi ho cominciato a sfruttare un pochettino di più la cosa, ho cominciato ad approfittare un po' di più di fare, non so, più dirette su Twitter, anche perché nel frattempo avevo cambiato il telefono che supportava il live streaming su Twitter, ho cominciato a fare altre cose, però diciamo che il mio consumo medio mensile si era sempre stabilizzato tra i giga e i due giga. La funzionalità in 3G era eccellente, ero praticamente costantemente tutto il tempo in HPU e andava benissimo. Non ho notato differenze rispetto alla situazione in cui mi trovavo prima, perché comunque sono stato sei anni in 3G, per cui non ho potuto trovare grandissime differenze rispetto a prima, e mi sono trovato molto bene per tutto il tempo in cui ho operato con Kenna Mobile. Talmente tanto che, appunto, ho anche attivato una SIM di Kenna Mobile per quanto concerne il mio telefono del lavoro, e un'altra SIM di Kenna Mobile per cui ho passato la SIM che utilizzava mia madre. E veniamo alla nota dolente. Io ho scoperto della magagna dell'impossibilità di effettuare chiamate verso numeri mobili della Gran Bretagna per caso intorno alla fine di luglio di 2018. Questa cosa mi ha dato moltissimo fastidio, perché io ho una serie di SIM che lavorano con una numerazione della Gran Bretagna, e mi serve poter chiamare queste SIM dal mio telefonino mobile italiano per vari motivi. Ragion per cui questo per me era un intoppo, oltre al fatto che come fai ad avere un servizio di telefonia mobile che è «sì sì, poi fate tutte le chiamate internazionali che vuoi, sono a pagamento» e poi le chiamate internazionali non funzionano. E ho segnalato più volte all'assistenza tecnica al 181 questo problema. Più volte, ossia per la precisione, per ben SEI volte di fila. I ragazzi del call center sono gentilissimi, sono simpaticissimi, sono educatissimi, ma io facevo la segnalazione, spiegavo che questo problema lo riscontravo da tutte le mie SIM di mobile verso determinate numerazioni in Gran Bretagna. Ho anche lasciato i numeri della Gran Bretagna su cui effettuare degli esperimenti, e ogni volta, dopo due o tre giorni, la mia segnalazione veniva puntualmente chiusa, senza risolvere il problema. E come si fa a chiudere una segnalazione senza risolvere il problema? Quando richiamavo per avere notizie sullo stato della segnalazione scoprivo che la segnalazione «impossibile effettuare delle chiamate in Gran Bretagna» veniva prima trasformata in una segnalazione «navigazione internet non funzionante» e poi chiusa, perché la navigazione internet naturalmente era funzionante. Tutte e cinque le ultime volte che ho chiamato. La sesta volta me la sono presa con l'operatore un pochino e gli ho detto «Senti, io sino ad ora non ho voluto lamentarmi più di tanto, adesso io mi sono segnato i tuoi dati». Sappi che il mio problema è questo. Se fra due giorni sarà chiuso dicendo che era mancata navigazione in internet, io darò i tuoi dati a Kenamobile perché vengono presi i provvedimenti, e ci andrai di mezzo tu». Il ragazzo è stato molto gentile, il ragazzo è stato molto educato, il ragazzo ha preso in carico la mia segnalazione, ha preso in carico il mio caso, il ragazzo ha detto che avrebbe girato il mio caso anche al suo supervisore, ha chiesto un reset della scheda, dopo tre giorni in cui ho chiamato per sapere a che punto fosse la pratica, ho scoperto che il ragazzo non aveva neppure aperto la pratica di guasto. A quel punto, ancora più inferocito, ho cominciato la procedura di portatilità delle varie sim Kenamobile verso altri operatori. Molti si sono lamentati della presunta lentezza della connessione internet di Kenamobile e se ne sono andati via da quest'operatore per questo, io sono andato via dall'operatore Kenamobile non solo perché non funzionano le chiamate internazionali verso la Gran Bretagna, e tra le altre cose se avete un telefono Kenamobile, vi consiglio di provare il numero del mio ufficio. Di domenica non c'è nessuno, se volete provate di domenica, se non vi fidate se vi spaventate che qualcuno risponda e vi massacri, il numero è in sovraimpressione. Io ho pubblicato, tra l'altro, un video mostrando questo difetto su Twitter, che è rimasto fissato sul mio profilo taggando Kenamobile e Noverka e nessuno mi ha mai calcolato. Complimenti! E sì che Kenamobile ha i tag sui social, di solito rispondeva. Insomma ragazzi, questa è stata la mia esperienza con Kenamobile, non posso dire che sia stata positiva al cento per cento, ma neppure che sia stata negativa al cento per cento. Diciamo che non ha raggiunto la sufficienza, soprattutto per questo discorso delle segnalazioni dei guasti, per cui lascio la parola a voi. Voi che cosa ne pensate? O che cosa mi dite? Voi avete una sim di Kenamobile? Oppure avete avuto una sim di Kenamobile? Siete intenzionati a passare a Kenamobile? Parliamone nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag DdVotr. Spero di essere riuscito a intrattenervi, ma soprattutto a farvi conoscere un po' meglio l'operatore Kenamobile. Se ci sono riuscito, come sempre, vi invito a mettere pollice-in-alto e condividere questo vlog con i vostri amici, anche su WhatsApp o Telegram, magari agli amici che vorrebbero passare a Kenamobile. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al mio canale YouTube, è gratuito e assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto. E sì, effettivamente il buon profumo di nuovo iscritto si rinnova ogni quattro settimane, non ogni mese solare, ma tranquilli, il rinnovo è gratuito. Vi ricordo, infine, di seguirmi su Telegram. Se vorreste che trattassi un argomento particolare sul diario di Viaggio on the road, potete farmi sapere anche quello in un commento qua sotto. Io sono Grizzly, questo è tutto, per cui come sempre grazie, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima! Grazie. Grazie. Grazie.